come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi mettetevi comodi perché qui sul mio canale le cose non si ascoltano ma si imparano quindi partiamo subitissimo con il primo argomento di oggi vi do questa notizia veloce 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 velocissima vi ricordo che a partire dal 18 di marzo anzi in realtà la scadenza è il 18 di marzo tutti i sostituti di imposta devono inviare ai percettori le certificazioni uniche e vedete che cos'è per chi non lo sapesse che cos'è la certificazione unica in pratica la certificazione unica se vi ricordate era il vecchio cud in pratica un documento fiscale che sintetizza in un unico modulo tutte le informazioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente pensioni redditi da pensioni redditi assimilati come per esempio quelli del lavoro autonomo occasionale comprese anche tutte le ritenute fiscali contributive eccetera eccetera ed anche tutte le detrazioni e deduzioni aspettanti al lavoratore o al pensionato quindi in teoria entro oggi avrebbero dovuto inviarvele i vecchi i vecchi cud se non l'avete ricevuti andateli a chiedere tra l'altro per quanto riguarda quelli dell'inps potete tranquillamente andarveli a scaricare direttamente sul sito internet dell'inps e li trovate lì dentro poi poi in teoria se non hanno cambiato le cose adesso non io non ho più guardato insomma non mi sono più in aggiornato però in teoria se non hanno cambiato le cose il leccio cud per i pensionati in teoria si potrebbero chiedere anche all'ufficio postale quindi basta andare all'ufficio postale compilare un modulo e vi danno la copia della si stampano il vostro cud ecco non sono sicuro di questo servizio qua una volta funzionava c'era non so se ancora attivo nel caso eventualmente chi l'avesse fatto ma lo faccia sapere qui sotto nei commenti così mi rendo conto anch'io se questo servizio è ancora attivo imposta oppure no cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione in questa parte del video vorrei parlarvi delle spese che abbiamo pagato per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale perché perché dovete sapere che si possono portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi modello 730 e ovviamente ovviamente anche modello unico redditi non è dici perché ne parli adesso voglio dire in tutto l'anno proprio adesso ne parli è sì ne parlo proprio adesso perché tra qualche settimana un mesetto bisognerà iniziare a compilare le dichiarazioni dei redditi e modello 730 o per chi lo fa il modello unico quindi la detrazione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico consente proprio al contribuente quindi alla persona di recuperare di recuperare ben il 19 per cento della spesa pagata entro limite massimo di costo ovviamente dell'abbonamento di 250 euro questa cosa è importantissima da tenere a mente importantissima perché serve a recuperare proprio dei soldi nella dichiarazione dei redditi quindi ogni anno voi dovete ricordarvi di tenere i le ricevute degli abbonamenti al trasporto pubblico ma ora vi spiego meglio tutto quanto si possono detrarre dalle tasse gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale regionale interregionale e quindi non gli abbonamenti di autobus tram e treno ma anche quelli del treno anche in caso di spostamenti tra diverse regioni ricapitolo perché ho detto non in realtà era non solo gli abbonamenti di autobus tram e metro ma anche quelli del treno in caso di spostamenti tra varie regioni ecco ma mancava un solo per questo solo ha cambiato tutta la frase quindi non solo gli abbonamenti di tizio che ha sembronio ma anche gli altri e allora come fare a sto punto a detrarre le spese è semplicissimo per quanto riguarda la detrazione dalle tasse bisogna inserire dentro il campo della dichiarazione dei redditi che si chiama spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti e servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale l'importo del abbonamento se vi compilate voi la dichiarazione dei redditi dovete fare questo passaggio se invece la fate compilare da un professionista o da un CAF voi semplicemente dovete portare tutte le ricevute di pagamento al professionista e poi ci penserà lui a farvi tutto quanto poi il rimborso IRPEF quindi il rimborso delle tasse spetta su una somma non superiore a 250 euro limite di importo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento e quindi in pratica in sostanza il rimborso spettante arriva fino a un massimo di 47 euro e 50 cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione il cedolino di aprile delle pensioni sarà disponibile sul sito internet dell'inps tra il 20 e il 22 di marzo e i pagamenti arriveranno a partire da martedì 2 di aprile dice perché il 2 di aprile e non il primo di aprile allora primo perché il primo di aprile è festivo pasqua era il 31 cioè pasqua era pasqua è il 31 e poi ci sarà pasquetta che è il primo poi sempre stato in ambito delle pensioni si prospettano in pratica delle pensioni un po più ricche ad aprile per via di alcuni aumenti e arretrati infatti cosa succede da marzo le cifre sono state un po più alte perché l'inps ha iniziato a pagare gli aumenti previsti dalla nuova riforma il sapete che è cambiato tutto no cioè ogni anno qui si inventano una riforma quindi tu hai riabituato una cosa l'anno dopo completamente diversa e quant'altro e quindi questa riforma dell'irpef ha visto praticamente l'eliminazione dell'aliquota al 25 per cento e quindi l'estensione in questo senso l'estensione della platea dello scaglione al 23 per cento per i redditi fino a 28 mila euro annui sinceramente io di questo a questa manovra di cambiamento irpef non ci vedo nulla di buono anche perché sinceramente quando lo stato fa qualcosa di solito non lo fa per i cittadini ma lo fa per le tasche su e quindi in pratica io di questa manovra non ci vedo nulla di buono può sembrare sì che adesso all'inizio c'è questa differenza di qua di là ma se l'hanno fatta evidentemente dei tutti questi economisti cose che studiano le cose sinceramente non fanno le cose per noi questo è chiaro comunque di questa cosa lo scopriremo poi nel tempo quando effettivamente perché adesso sembra tutta la novità lo scopriremo poi con il tempo io dico a pensare male c'è sempre da guadagnarci poi per ultimo volevo parlarvi del bonus genitori separati in stato di bisogno ma siccome siamo già arrivati a 8 forse 8 minuti di video non voglio farlo diventare troppo lungo vi ricordo che c'è la possibilità di fare domanda già da partire dal 18 di febbraio e fino al 31 di marzo di quest'anno infatti tramite questa domanda c'è la possibilità di ricevere questo bonus genitori separati divorziati o non conviventi per il momento io vi ho dato l'informazione poi come vi ho detto c'è tempo fino al 31 di marzo quindi nel prossimo video ve lo spiegherò un pochino meglio visto che è un argomento che può veramente essere interessante a tutti nel frattempo se voi avete urgenza poiché tanto siamo già al 18 ecco se voi avete urgenza nel frattempo potete rivolgervi al caff patrunato non so se loro fanno ste pratiche o un professionista abilitato e vi fate seguire questa pratica comunque non vi preoccupate perché poi ne parleremo meglio in un prossimo video poi tra l'altro l'altro giorno giovedì scorso nella diretta live c'è stata una persona che appunto mi ha chiesto di parlare del bonus 300 euro per i computer e allora nel frattempo che io preparo l'argomento e faccio un paio di ricerchine per presentarvi appunto l'argomento da come ho capito questo bonus vale per gli studenti e avevo già fatto anche l'anno scorso un altro video dove si parlava appunto di questi bonus per poter acquistare computer tablet l'anno scorso la computer tablet e quant'altro e li trovate sul mio canale di youtube quindi basta che andate nel motore di ricerca in alto scrivete bonus tipo studenti bonus computer con scritto me la carne luigi e lui vi tira fuori tutti i video che ho fatto dove parlano dove parlavo di quell'argomento poi comunque va bene non vi preoccupate perché sapete che poi con calma vi presenti farò poi uno studio e preparerò poi il video con tutto l'argomento diciamo che con questo è tutto ricordatevi anche le dirette live come ho detto il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci vediamo mezz'oretta tre quarti d'ora parliamo del più del meno ci teniamo compagnia quindi tutti giovedì sera 21 e 30 sul mio canale di youtube con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao ciao ciao